Salve amici di Sulmacco, siamo qui alla Casuzza oggi in preparazione della giornata mondiale dell'ambiente che faremo anche a Monreale, giorno 9 domenica dalle 10 alle 21, adesso proveremo a chiamare l'assessore alla polizia municipale che è l'assessore Marco Entravaglie perché avevamo un'idea, insieme ai amici di Collettivo Link perché oltre a noi a fare la giornata mondiale dell'ambiente del 9 giugno c'è il gruppo Collettivo Link dell'Arci di Monreale l'officina di ricerca e varie associazioni che stanno unendo giorno dopo giorno Esatto, infatti abbiamo anche il Pizzo, il WF, il Pizzo, l'ambiente, il Scout, un sacco di commercianti che venderanno prodotti biologici Sì, infatti all'interno di questa giornata, proprio nella mattinata, si svolgerà una manifestazione per, più che pubblicizzare, per condividere i prodotti agricoli del nostro territorio e quindi sarà, diciamo, la mattinata dedicata al chilometro zero Ok, tagliando il discorso Tagliando il discorso, è comunque importante il chilometro zero Allora, ho contato a tutti i ragazzi dell'altra associazione di fare un nostro show da appendere a Monreale o, casomai, al Palazzo di Città o al Guiglielmo, con scritto Basta Incendi Io, in modo amichevole, ho contattato l'assessore in travaglia chiedendogli se si poteva fare In questi due giorni, molto probabilmente, se l'ha stato occupato perché non c'ha risposto Adesso è il momento di fare questo sommacco TV con queste belle cassette colorate qua dietro per chiamare l'assessore Allora, vediamo un pochino se si risponde Allora, digito Oppure possiamo chiamare anche il sindaco Come capo dell'amministrazione sarebbe anche opportuno Niente, il tentativo è andato in fumo Facciamo veramente l'ultima prova? Sì, sei l'ultima, sindaco No, assolutamente la prova, sto chiamando Ci richiude la chiamata Dopo di ciò Ma andando chiudiamo questo collegamento Perché comunque, prima chiamava Poi l'avevo occupato, quindi con qualcuno parlava Certo Poi non ci chiude la chiamata Vabbè, chiudiamo Dicendovi Innanzitutto, cari amministratori Noi abbiamo questa proposta da fare Ci fate mandare Appendere questo striscione Dovete dircelo in tempi utili In modo tale che noi realizziamo lo striscione Da permettere che comunque Già noi avevamo cercato di contattare L'assessore di Travalli attraverso Whatsapp Whatsapp Facebook No, Whatsapp Abbiamo lanciato un appello su Facebook E poi abbiamo lanciato un appello su Facebook Comunque, siamo sempre in attesa Chiaramente i tempi stringono Il comitato è in attesa I tempi stringono Speriamo di essere contattati al più presto Niente, basta Allora Noi vi invitiamo ugualmente comunque Domenica 9 giugno a Morreale 9 giugno a Morreale Dalle 10 alle 21 di sera Per la giornata mondiale dell'ambiente E non lo scordate che alle 17 ci sarà il dibattito Dove proietteremo il nostro reportage Il corso delle cose Che abbiamo realizzato lo scorso anno Cioè, vogliamo che ci sia il sindaco di Morreale Perché possa intervenire al dibattito Di sicuro c'è l'assessore di Trafonte Basta così Chiudiamo perché altrimenti il video diventa lunghissimo e noioso Poi con le nostre facce Che non sono per niente pure belle Quindi chiudiamo E aspettiamo domenica Giorno a Morreale dell'ambiente Oltre a noi ci sono tutti questi Li posso mettere La stessa cosa è che aveva l'assessore di Trafonte Siamo stanchi L'assessore L'assessore ultimamente ha cambiato look E quindi probabilmente Visto che si sta estradando Abbiamo l'assessore in Trafonte Adesso chiamiamo l'assessore E dovevamo chiamarlo Per poi un set fotografico sul posto al marchio Adesso chiamiamo Adesso Che cazzo Che posso essere un amore Chiamami per favore Posso stare senza te Da quando c'è quei baffetti Contattaci Chiamati Il cliente deve chiamare Non dipende Scusateci se siamo stati offensivi Apri quella busta Chissà Chissà Non lo chiamano C'è posta per te Apri quella busta Siamo qui con Nino Carlotta Salve a tutti Scusate Proprio un annuncio Proprio in Per la giornata dell'ambiente Abbiamo con noi Per tutto il giorno E ora è qui in anteprima Banana Joe Sfera di plastica Oggi avremo la risposta Ma dove ti sei che la contatterai? Come ci sei che la fai?